e allora ecco che abbiamo parlato di pinterest fino adesso appunto con il suo country manager per la francia per la southern europe e il benelux adrian buoyer ma appunto l'e-commerce è un tema che poi diciamo ne consegue perché chiaramente nel momento in cui io posto e uso utilizzo piattaforme applicazioni come pinterest tutto questo serve per far crescere anche la parte commerciale del mio del mio business e quindi sappiamo che il lockdown ha portato lo dicevamo lo dicevo anche questa mattina nell'introduzione nella sala principale ha portato con sé la crescita dell'e-commerce però quali sono diciamo così i dati che ci aiutano a scoprire le mosse per migliorare per essere pronti ai cambiamenti e le novità nell'ambito nell'ambito business quindi affrontiamo un diciamo spazio verticale con due con due relatori che si dividono diciamo così questa presentazione siamo felicissimi di accoglierli e proprio per capire quali insight possiamo possiamo avere dal mondo dei dati e infatti il loro titolo è imparare dal lockdown oggi e non rimanere locked out domani i dati l'e-commerce e le vendi e le vite digitali nel 2020 io chiedo alla regia di mandare il jingle per dare il benvenuto ai nostri prossimi relatori prego benvenuti sono Giorgio Sacconi CEO Age Farm Digital Marketing benvenuto Giorgio ciao e Amedeo Bellodi data scientist di Age Farm Digital Marketing ciao Amedeo ragazzi l'e-commerce il mondo chiaramente che fa ruotare il business le vendite in questo momento grandissime opportunità per tutti però dal mondo dei data dei big data comunque della data science quali sono gli insight che ci potete dare io vi lascio il palco virtuale per questo vostro intervento ci rivediamo più tardi per un paio di domande a entrambi grazie grazie Barbara e soprattutto grazie di questo invito ci fa un sacco piacere essere qui e devo dire abbiamo visto degli interventi super interessanti in questa mattinata penso a quello di Ipsos ma anche assolutamente anche all'ultimo cercheremo di dare anche noi il nostro contributo partendo da quella che sono lasciami dire delle passioni comuni al team di 100 persone che in Age Farm Digital Marketing appunto lavora intorno alle tematiche dei dati e delle storie che possiamo raccontare attraverso questi dati questi insight e la prima storia che andiamo a raccontarvi e salto le nostre presentazioni se mi scuserete andiamo al sodo la prima storia parla di cambiamento perché parla di cambiamento? perché parlando di dati ci sarebbe veramente piaciuto parlare di lockdown al passato però se guardiamo le serie storiche in particolare il numero di query che vengono effettuate giornalmente su Google vedete bene che nel 2020 il tema lockdown compice anche il fatto che è stato sdoganato da un punto di vista culturale beh credo che possa sicuramente essere un tema declinabile al presente e non al passato e questo che cosa ci insegna? ci insegna che le serie storiche e i dati oltre a dover essere buoni e a dover essere freschi ci devono dare lo spunto per avere la capacità di cambiare costantemente la nostra rotta di business e la seconda storia che io voglio raccontarvi parla invece di infodemia e quindi di nuovo essere molto centrata sul presente perché non so voi ma io ricevo telefonate dai miei amici e parenti io non sono di origine milanese che mi dicono ehi cosa fai? cosa pensi di fare? scappi? Milano brucia i tuoi figli i tuoi quattro figli posta io di salvo ecco io capisco perché se guardiamo i titoli ve ne ho riportati qualcuno degli ultimi giorni oggettivamente a chi guarda da fuori dice wow la Lombardia e Milano e lo vediamo anche dai numeri assoluti questo è il sole 24 che fa un ottimo lavoro in termini di infografiche i numeri assoluti ci dicono che sì la Lombardia è assolutamente il punto nevralgico l'epicenta abbiamo sentito parlare di un sacco di parole di origine belliche in queste ultime settimane ecco il secondo spunto che io vi voglio portare in termini di storie oggi è quello di non lasciare mai un numero da solo perché un numero da solo può raccontare una storia qualsiasi e a noi invece interessano le storie vere per cui vi portiamo sempre dalla stessa fonte che giustamente riporta anche i contagi sulla popolazione quindi a un certo punto ci insegna a relativizzare questi dati per poter trarre degli insight che siano validi e quindi non scoprire che la Lombardia è la prima regione in termini di popolosità e quindi mi permetto di dire che a Milano mi sento di non dover invidiare niente alle situazioni di chi abita o Torino o Genova ecco poi ci sarebbe qualcuno adesso potrebbe dirmi ehi guarda che c'è anche il Veneto in termini di popolosità però ho saltato volontariamente perché io sono Veneto quindi non voglio entrare in tematiche di campanilismo e permettetemi anche di ironizzare un po' su questa situazione un po' perché facciamo marketing non siamo noi in responsabilità di salvare le vite un po' perché volevo un po' bilanzare questa tendenza dell'infodemia a generare questa ansia in generale il mio auspicio è che si riesca a affrontare queste situazioni partendo dai dati e per questo volevo chiudere con una citazione di Agno Flaiano che per carità parlando di politica ci diceva che la situazione è grave ma non è seria ecco io credo che in questa fase ci sia bisogno di serietà e nel nostro piccolo quindi di nuovo parlando di marketing lo faremo raccontandovi delle storie che sono serie perché partono da dei dati di prima parte e buoni e lo faremo sulle tre linee principali le tre cose che hanno caratterizzato il nostro almeno devo dire primo lockdown sicuramente l'uso di internet e quindi le search l'uso dei social perché non so voi ma credo che tutti abbiamo abusato di social network durante il lockdown e qui faccio io per primo mi metto in prima linea l'uso degli e-commerce perché almeno io mi sono comprato un po' di tutto durante il lockdown ecco per raccontarvi delle storie parlando di numeri perché all'interno del nostro team non c'è nessuno meglio che Amedeo che come diciamo noi è il primer della nostra cerchia di data scientist e quindi lascio a lui sì grazie Giorgio riparto proprio da una frase che hai detto poco fa cioè che è un numero lasciato da solo può raccontare una storia qualsiasi ecco questo è proprio quello da cui voglio partire a chi ci ascolta vorrei proporre questo gioco cioè di provare a indovinare che cosa rappresenta questa curva perché un grafico così senza dettagli ovviamente può rappresentare qualunque cosa più o meno può raccontare qualunque storia vogliamo non è la curva dei contagi se qualcuno sta pensando a quella se qualcuno è intrigato dal picco di aprile vi posso dire che non è neanche la vendita delle uova di Pasqua o il consumo del cioccolato si tratta di qualcosa che però ha riguardato un po' tutti noi e è la popolarità della query pane fatto in casa su Google è sicuramente questo un racconto che è stato molto calcato anche dai media cioè come la gente chiusa in cucina di fatto continuava a sfornare il pane anche poi abbiamo altri numeri che sposano questa storia col diretti parla di un più 80% nella vendita di farine però quello che vi propongo è anche chiederci se non ci siamo convinti però che questa fosse la storia che meglio raccontava il lockdown perché proprio mentre questa popolarità aumentava e poi man mano andava scemando c'era un tarlo che iniziava man mano a irrobustirsi nella mente degli italiani forse che è la popolarità di un'altra query altrettanto importante che arriva a piccare proprio alla fine anzi all'inizio della fase 2 alla fine di quello che è stato il nostro lockdown ed è interessante che questa query è quella della dieta quindi abbiamo due storie che sono due facce diverse della stessa medaglia ovviamente potremmo poi andare a trovare molte altre popolarità molte altre tendenze da questo punto di vista però vi rendete conto che quindi diventa cruciale in quest'ottica capire qual è il numero che vogliamo perché da questo capiamo anche che storia stiamo cercando di raccontare ecco i due casi che vi racconto poi da qui in avanti partono proprio da questo punto cioè dall'importanza di scegliere un dato di scegliere un approccio numerico un approccio analitico perché da qui si possono scatenare delle potenzialità di storie che possono rispondere a delle domande di marketing, di comunicazione, di business per non rimanere ad alto livello entro subito nel vivo di un caso un caso di un nostro cliente un cliente fashion i numeri che vi riporto sono questi stiamo parlando di 5 mesi i primi 5 mesi dell'anno profilo Instagram appunto di quindi noi seguiamo direttamente il social media management per questo cliente dell'ambito fashion la metrica che vi ho proposto non me ne vorrà Giorgio che appunto non è relativizzata giusto per continuare con queste comunque per indicarvi comunque quali sono comunque anche degli altri miglioramenti però il punto è abbiamo la metrica delle interazioni per mese interazioni per mese vediamo che aumentano leggermente nel mese di febbraio ci sta perché ci sono stati eventi proprio sull'ambito fashion e coinvolgimento di celebrity qualcosa in meno su aprile ci sono state delle vacanze di Pasqua il 25 aprile eccetera quindi tutto sommato questo dato ci racconta una storia che dice che più o meno la follower base del nostro cliente interagisce ogni mese con un livello costante di interazioni questa però non era la storia che noi volevamo raccontare non ci bastava come storia rubo una citazione da Giorgia Lupi esperta di data visualization che afferma come i dati sono un punto di partenza per una narrazione più ampia che deve includere essenzialmente l'aspetto umano della relazione proprio per questo noi abbiamo messo ci siamo messi intorno a un tavolo chi segue il social media management chi segue la moderazione di contenuti chi segue invece più direttamente l'analisi del dato per produrre quello che poi è diventato lo human empathy indicator ovvero una bussola che permette di rileggere le performance sui social quindi questa bussola cosa permette di fare di rilevare qual è quella fetta di utenti che entrando a contatto con un certo post interagisce su diversi ordini di livello ovvero noi sappiamo che su Instagram puoi interagire con un contenuto con un like aumentando il buzz con un commento oppure ritenendo memorabile il contenuto a tal punto da volertelo salvare ecco distinguere tra il calderone delle interazioni diciamo il tasso di interazioni su questi multilivelli permette di raccontare una storia nuova vediamolo proprio come esercizio su questi cinque mesi che vi ho mostrato prima tutto quello che è il mondo pre-lockdown generale e febbraio ha delle metriche molto alte ha dei tassi di salvataggio molto alti su gennaio un buzz altissimo su febbraio quello che succede durante il lockdown e lo si vede ancora meglio se lo andiamo a sovrapporre è che gli assi si mantengono buoni su tutto quello che è l'interazione like che è un po' quella interazione veloce quella interazione anche poco molto distinto diciamo degli utenti mentre abbiamo un minor salvataggio dei contenuti ma questo ci sta anche per le difficoltà che ha avuto il settore della moda durante il lockdown ovviamente la difficoltà di fare nuovi shooting di rinnovare il materiale creativo e al tempo stesso abbiamo anche una minor buzz rate diciamo una minor tendenza alla discussione come se di fatto l'overload informativo dato dai social i dati parlano di numeri molto alti di aumenti molto alti nel tempo passato sui social ci abbia in un certo punto anche detto costretti a dirci ma sì che cosa voglio dire di più su queste cose ovviamente si tratta di un caso però che secondo me è molto importante perché ci racconta una nuova prospettiva una nuova prospettiva di racconto che permette di far aumentare gli spunti anche per la costruzione di un piano editoriale ovviamente questi dati in mano a chi gestisce il piano editoriale sono uno strumento una risorsa per declinarlo in maniera diretta anche rispetto agli obiettivi obiettivi di interazione nuovo numero nuovo scenario nuova storia l'e-commerce i numeri appunto come dicevamo già in introduzione sono molto alti per quanto riguarda l'e-commerce di prodotto osservatori.net parla di più di un milione di italiani che sono entrati in contatto per la prima volta a causa del lockdown con il mondo dell'e-commerce ebbene noi non siamo qui oggi a raccontarvi il caso fortuito di un e-commerce che ha avuto una rapida crescita però vi raccontiamo proprio il caso di un nostro cliente della GDS quindi grande distribuzione specializzata specializzato soprattutto su prodotti per la casa per il corpo igiene personale e prima infanzia perché questo cliente ha un e-commerce ma secondo noi l'e-commerce di questo cliente doveva essere di fatto un'opportunità per fare una comunicazione diversa ovvero ci siamo chiesti ok ma quali sono le queries che portano gli utenti a conoscere a entrare in contatto con questo e-commerce ebbene ci aspettiamo che questo paniere di query bene o male correli con la gamma di prodotti che vengono offerti dall'e-commerce però per come siamo fatti noi nei farm digital marketing eravamo sicuri che avremmo trovato comunque anche qualcosa che non era tra quello che ci potevamo aspettare una soluzione che abbiamo sviluppato internamente una soluzione proprietaria che si chiama live brand permette proprio di fare questo ovvero appoggiandoci a tutto quello che è il mondo dell'API di Google Search Console che permettono di avere un dato più esteso un dato per dirlo da smanettoni un big data che quindi poi richiede anche un processamento uno storage apposito facendo leva su questo tipo di dato andiamo a costruire dei cluster semantici che di fatto evidenziano quelle che sono le caratteristiche i filoni tematici principali di chi di fatto ha ottenuto il nostro e-shop nella result page di Google questo è interessante per diversi motivi perché per esempio adesso stiamo visualizzando il cluster di barba e depilazione chi segue questi dati può per esempio accorgersi che bene o male tendenzialmente nell'ultimo anno è sempre preponderante la quota di utenti che cercano prodotti già correlati con un marchio questo è abbastanza stabile eccetto per un breve periodo e vedremo fra poco cosa è successo in quel periodo però questo è sicuramente già una prima leva di comunicazione perché ovviamente dosare una comunicazione che si collega dei marchi a delle partnership o rispetto a suggerire una maggiore discovery agli utenti è comunque già un buono spunto ma lo strumento ancora più interessante forse è nella zona invece in basso a destra di questa dashboard in cui in realtà notiamo che tra le queries unbranded quindi più generiche di discovery sono presenti alcune queries molto particolari che appunto erano quelle che non ci aspettavamo se vogliamo ovvero barba incolta le donne piace la barba la barba piace le donne è ancora più interessante se andiamo a vedere la trend line di questo sotto insieme di query ovvero una trend line che ci mostra come il picco di queste ricerche di questi posizionamenti del nostro e-commerce è avvenuto più o meno a tre settimane dall'inizio del lockdown come se di fatto a tre settimane all'inizio del lockdown chiusi in casa i nostri utenti abbiano iniziato a chiedersi ma se questa barba adesso non me la taglio più cosa succederà quando finirà il lockdown diciamo che questo è un principio di quella che secondo me dovrebbe essere una strategia di comunicazione empatica che raccoglie quindi anche tutto quello che è la preoccupazione il pensiero degli utenti e va in questa direzione gli va incontro arrivo proprio alla chiusura noi abbiamo detto all'inizio quali sono appunto le strategie per non rimanere chiusi fuori per non rimanere locked out secondo noi la strategia è quella di raccontare la propria storia una storia che deve cogliere le opportunità che i dati ci danno in che senso cambiare prospettiva sui numeri che abbiamo visto prima con i dati social abbiamo dei numeri su cui non dobbiamo fossilizzarci possiamo giocarci possiamo creare delle soluzioni analitiche che ci siano di spunto per delle nuove soluzioni abbiamo visto poi approcci data driven alla personalizzazione di comunicazione che soprattutto e questo è il terzo punto ma è che è fondamentale secondo me non deve mai dare per scontato il percorso dell'utente noi da anni lo vediamo nel mondo performance questo ma in tutti i settori del marketing troppo spesso si danno per scontate delle figure di riferimento dei percorsi dei cammini diciamo che questi utenti percorrono nella relazione con il brand ecco partendo dai dati possiamo sfatarli ma soprattutto capire quali migliori strategie possono essere costruite per andare in una direzione di miglioramento con questo io ho concluso e vi ringrazio allora eccomi qui tornata da voi molto interessante cogliere l'opportunità dei dati sicuramente è quello che che gli utenti che le aziende che il business deve fare quindi questa è un'analisi è stata un'analisi molto interessante tra l'altro io immagino che l'abbiate raffinata diciamo quasi sul momento perché qui la situazione cambia in continuazione è vero Giorgio mi fa di sì cioè nel senso che ormai effettivamente la situazione cambia in modo talmente rapido che anche se si analizza e quindi si danno poi dei risultati di dati però devono essere veramente aggiornati quasi in tempo reale sì beh questo è uno dei grandi vantaggi di poter disporre di un dato buono in tempo reale perché non hai bisogno di processi decisionali che coinvolgano molte persone riunioni e quant'altro tipicamente per i nostri clienti abbiamo la data visualizzazione del dato in dashboard quindi la condivisione di questo in termini informativi infatti oggi abbiamo parlato di dati e di storie però il passaggio logico è quello di tramutare dati in insight di business cioè qualcosa che ti permesta poi di essere scaricato nel tuo business e come dici te giustamente mentre una volta si poteva fare con dei processi dei piani settimanali mensile adesso è una cosa che bisogna fare nel day by day e quindi bisogna avere dei nuovi new normal fatto di processi diversi su questo guarda se posso mi gioco anche il bonus track vediamo se riusciamo a farla vedere perché ci siamo chiesti come questa storia che è un esempio della barba potesse essere declinata per il nostro cliente ecco se si trova un'informazione che è veramente data driven perdona mia idea ma nella tua ultima storia veramente passione nerd per il big data ok uno pensa e quindi e quindi in realtà questa cosa è il seme di una storia che può diventare comunicazione abbiamo fatto un visual così al volo per dirvi come se ho un'ancora di comunicazione forte legata alla barba incolta io posso utilizzare un messaggio per agganciare l'attenzione dei miei clienti prospect proprio su questo segmento è solo uno punto ma così è come chiaramente si possono utilizzare ecco un esempio di quello che avete presentato come si può effettivamente concretizzare poi nella realtà Giorgio ancora ti chiedo qualche considerazione diciamo così dopo la presentazione dopo i casi che ha presentato Medeo magari da condividere con la platea qualche altro insight proprio veramente veloce magari un paio di minuti però che tu ti senti di aggiungere on top le cose che magari avete detto perché l'argomento è tecnico è esattamente molto interessante però probabilmente in questo momento la data science è veramente fondamentale per tutto così come lo è nella medicina lo è nel business lo è chiaramente nell'e-commerce lo è nei processi di marketing cioè veramente sta diventando la scienza di questo momento e la scienza che ci può come posso dire non riorganizzare però che può in qualche modo rendere le nostre vite più più facili forse in un momento così di difficoltà cioè riusciamo a dare dei pattern interpretativi a quello che accade e quindi poi darci una maggiore facilità nella scelta o consapevolezza nelle scelte da percorrere sì guarda io voglio solo passare un messaggio come hai detto te di semplicità c'è moltissimo valore nei dati nei vostri parlo diciamo ai miei clienti a quelli che potrebbero diventarlo nei vostri dati di prima parte nel vostro CRM nelle vostre interazioni di prospecting media quindi nei vostri ad server e potete estrarla per fare del business non è rocket science cioè non è niente di così complicato e soprattutto c'è molto valore nella comprensione del fenomeno non solo nell'esecuzione noi non crediamo nelle black box nell'uso dell'artificial intelligence come bottone per far succedere delle cose vogliamo che ci sia l'explainability del dato perché c'è molto valore come diceva Medeo nel capire perché la sensazione gli stati d'animi i motivi per cui il mio cliente fa determinate cose i dati fanno emergere dei fenomeni poi noi diciamo sempre con i tuoi clienti parlaci quando hai capito che cosa chiedere certo bene io vi ringrazio i ragazzi di H-Farm ragazzi di H-Farm perché H-Farm è un luogo di persone di talenti giovani e quindi me lo immagino così grazie per i ragazzi Riccardo con un ricardo a tempo H-Farm è un posto dove sono stata tante volte e adesso nella sua trasformazione anche nel percorso di formazione che sta portando avanti col campus però insomma è sempre un piacere rincontrare persone di H-Farm grazie a Giorgio Sacconi CEO appunto del digital marketing di H-Farm e grazie a Medeo Bellodi data scientist del digital marketing di H-Farm ciao ragazzi ciao ciao buona giornata allora passiamo al prossimo speaker ma ovviamente prima la tendina di chiusura della nostra regia prego di H-Farm Grazie a tutti.